ciao ragazzi siete pronti per una nuova sfida oggi la sfida sarà fiammante sì ragazzi faremo una sfida con i fiammiferi quattro colori nero rosso verde rosa quale arriverà per primo al traguardo ma in che modo bruciando o come realizzeremo questa sfida la realizzeremo in questo modo costruiremo un campo di cartone dove faremo quattro rettilini saranno fatti da i fiammiferi l'incendieremo insieme quale colore arriverà per primo al traguardo scopriamolo c'è solo un problema però come accendere contemporaneamente i quattro canali di fiammiferi diversi o io ci ho pensato e onestamente la cosa non è semplice perché bisogna che partano tutti in modo contemporaneo e come posso utilizzare due accendini con due con le due mani l'idea è quella di fare una partenza di questo tipo ovviamente le distanze saranno le stesse le misureremo ok ma io potrò in questo modo accendere con la mano destra una linea con la sinistra l'altra linea e questo potrò farlo in contemporanea iniziamo a fare le linee allora non so se si vede ma queste sono le quattro piste queste due saranno le partenze ok non ci resta che fare più che altro non ci resta che armarci di pazienza e iniziare a incollare uno per uno i fiammiferi ragazzi ci siamo la prima linea è quasi completata ora la completeremo e poi passeremo alla seconda perfetto ragazzi a questo punto per completare avremo un finale scintillante perché il vincitore accenderà una fontana che noi andremo a piazzare qui perfetto ragazzi non ci resta che accendere il fuoco ma questo lo faremo all'esterno via ragazzi ci siamo gli accendini sono pronti possiamo iniziare la sfida questa sarà la partenza e arriveremo al fuoco d'artificio allora ragazzi ci siamo ciao 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 ciao